Doppio appuntamento, doppio appuntamento in quel di Castellana Grotte, provincia di Bari, all'ACAM delle Grotte, questa bellissima accademia di un carissimo amico Gianfranco Vinella che mi ha già visto ospite due giornate insieme a me l'anno scorso. E allora torno, torno dagli amici di Bari, torno dalle amiche estetiste, parrucchieri, barber dell'Accademia ACAM delle Grotte con una doppia giornata ancora più interessante. Domenica 23, lunedì 24 febbraio in aula con me, due giorni nuovamente, prendiamo la chiave e la buttiamo via, per fare che cosa? Beh, la domenica per andare a lavorare sulle tecniche di differenzazione. Vi insegno come essere diversi da tutti gli altri. Da tutti gli altri chi? Dai vostri concorrenti ovviamente, dai barber, dai parrucchieri, dell'estetiste, eccetera, eccetera. Da chi lavora nel mondo del beauty, nel mondo dell'headcare. E il lunedì invece andiamo a lavorare sul social media marketing. Andiamo a vedere come utilizzare i social media nel modo migliore. Allora due giorni in aula con me. Hai già prenotato il tuo posto a sedere? Hai già prenotato la tua partecipazione? No? E allora contatta subito ora. Ti lascio i dati sotto oppure sopra, dipende da dove sei, sulla piattaforma di Facebook oppure su YouTube il video e contatta immediatamente Gianfranco Vinella e prenota il tuo posto domenica 23, lunedì 24 febbraio. La Came delle Grotte, Giancarlo Fornai insieme. Un doppio, doppissimo seminario straordinario. Ti aspetto, mi raccomando. Grazie a tutti. Grazie.